come arriva in italia questa normativa rispondiamo a una domanda i farmaci hanno sempre avuto una copertura brevettuale la risposta è no fino a una quarantina d'anni fa circa 40 45 anni fa i farmaci non erano coperti da brevetto questo che cosa vuol dire che chiunque abbia un'officina in cui produce medicinali può decidere di prodursi l'aspirina di prodursi l'amitriptilina di prodursi il beta bloccante perché non c'era una protezione brevettuale stranamente che cosa succede negli stati uniti intorno a metà degli anni 70 che ci si rende conto che con lo stesso nome di per esempio proprano l'ombeta bloccante per l'ipertensione le malattie di cuore ci sono decine di produttori diversi che producono sì più o meno secondo le stesse regole ma senza nessuna garanzia di equivalenza fra loro proprio perché non c'è un brevetto da rispettare quindi io so come si produce questo farmaco me lo produco e lo vengo l'ente regolatore degli stati uniti che il cosiddetto fda for the drugs administration come il nostro AIFA in grande negli stati uniti è tutto in grande decide di intervenire su questo caos anche perché i farmaci negli stati uniti molti farmaci si vendono nei drugstore nei supermercati non c'è la tutela che siamo abituati a vedere in italia la farmacia il farmacista laureato quindi decide di metterci le mani e dice allora capiamo un po' come siete fatti se in base alla documentazione io vedo che tu hai usato una tecnica produttiva che potrebbe rendere il tuo propranololo un po' differente da quello di un altro io li classifico in maniera diversa gli metto una sigla una lettera che li differenzia e solo quando tu mi dimostrerai che nella tua produzione sei stato veramente simile all'altro allora io elimino questa differenza e dico questi due possono essere venduti allo stesso modo sono veramente la stessa cosa da qui comincia a nascere la necessità come si fa a dimostrare che siamo uguali perché io ti dico io lo produco così questa macchina metto dentro l'affare sintetizzo tiro metto l'acido e viene fuori la pillola io dico io lo faccio in questo modo anche questo è un buon modo l'unico modo è fare quello che ha raccontato il professor navarra fare gli studi di equivalenza vabbè io ve li do tutte e due alla stessa persona un giorno la pillola dopo due giorni la pillola b vado a vedere nel sangue arriva più o meno la stessa quantità se sì posso dire che questi due farmaci uguale principio attivo prodotto da due produttori diversi sono bioequivalenti da questo punto di partenza nasce la necessità degli studi di bioequivalenza perché bisognava cominciare a mettere ordine in questo gran caos di produttori nasce la normativa sulla copertura brevettuale c'è bene per evitare per il futuro facciamo le stesse storie da adesso c'è un brevetto che da quando il farmaco è brevettato a quando scade durerà 20 25 anni quello che sia dopo quando volete farlo uguale dovete fare gli stessi studi che mi sono serviti e che io ho messo a punto per capire se il propranololo A è veramente molto simile al propranololo B da questa esperienza nasce la costruzione delle regole degli studi di bioequivalenza l'Europa arriva poco dopo gli Stati Uniti fa sue queste regole le adotta pienamente per cui oggi noi assistiamo in tutto il mondo socio economicamente avanzato che sia Europa che sia Est o che sia negli Stati Uniti a una stessa logica di farmaci che per essere venduti dopo la scadenza brevettuale prodotti da un altro produttore devono rispettare le cosiddette regole di bioequivalenza questo è in sintesi un po' un pezzettino di percorso grazie perché questa è una bella storia però per diciamo poi per completare un po' quella che è la richiesta in effetti diciamo proprio per effetto di questa storia lunga ci sono delle differenze fra Stati Uniti ed Europa nel senso che in Europa diciamo la regola dello studio di bioequivalenza è mandatoria e quindi significa che se un farmaco non dimostra di essere bioequivalente non può proprio essere commercializzato quindi diciamo che in Europa noi siamo più tutelati mentre negli Stati Uniti poiché c'era diciamo si proviene da un passato più liberista dove c'erano farmaci anche diciamo che non avevano una necessità inizialmente di dimostrare bioequivalenza è possibile che esistano farmaci che stanno sul mercato ma non sono bioequivalenti rispetto a un originator tant'è vero che negli Stati Uniti c'è questo famoso Orange Book quindi libro con copertina arancione dove per ogni prodotto presente sul mercato tu puoi verificare se il farmaco copia, il farmaco equivalente è bioequivalente oppure no rispetto a un originator quindi diciamo che sono più liberi e sono meno regolati rispetto all'Europa e agli Stati Uniti perché in Europa se non hai la bioequivalenza non arrivi proprio sul mercato ma perché l'Europa e l'Italia in nada siamo arrivati dopo e abbiamo anche sfruttato un'esperienza in questo senso le norme sono più a salvaguardia della salute pubblica come si dice cioè nel nostro mercato non è nato il farmaco equivalente senza avere già alle spalle la normativa lì hanno dovuto fare il percorso opposto sono partiti da una situazione che cominciava a diventare poco garantista un po' caotica e hanno dovuto introdurre le norme noi siamo nati già con quelle norme quindi in Europa e in Italia non ci può essere un farmaco venduto a brevetto scaduto che non abbia rispettato queste norme grazie a tutti